Assessore, dopo tanti anni date una risposta anche all'Arzilla. Sì, diamo una risposta effettivamente a tutte quelle che sono state le richieste avanzate dagli stabilimenti balneari ma anche dalle associazioni di categoria perché si lamenta proprio in prossimità della scarpata di Accenta alla Ferrovia che rimane sulla pista ciclabile una riduzione notevole dello spazio che negli anni è stata dovuta appunto al fatto che la sabbia si è addensata e quindi c'era sempre meno spazio per poter poi appoggiarci dei cicli e lasciare appunto in sicurezza quella che era la pista ciclabile. Ora grazie all'intervento significativo che abbiamo concertato con le ferrovie dello Stato verrà fatto un consolidamento della parte diciamo a terra quindi ai piedi della scarpata sostituendolo con degli elementi in calcestruzzo che saranno poi delle fioriere dove metteremo, che abbelliremo diciamo la parte con tutte delle fioriture tipiche stagionali che poi gli stessi stabilimenti si sono adoperati e resi disponibili nella manutenzione per cui ecco sento di poter dare una risposta importante e significativa la prima parte quella ridosso diciamo della ferrovia verrà appiantumata d'erba la seconda parte avrà questa struttura in calcestruzzo tutti questi vasi che verranno messi sempre a ridosso con un notevole allargamento diciamo della parte fruibile dalle biciclette che sarà di due metri e mezzo questo è molto importante appunto perché tutto quello che poi sarà la messa della sistemazione delle bici durante la permanenza della stagione estiva non invaderà sulla pista ciclabile dove come già successo purtroppo devono intervenire dei mezzi di soccorso per le emergenze e quindi in questo caso sarà fruibile a tutti è molto più bella vedersi